La domanda è veramente complicata da rispondere, io la prenderei in un altro modo. A me sembra che ci sia una provocazione che alleggia questa mattina e che è stata fatta dal professor Passan quando ha detto che dalla tutela dei consumatori rurale si passa alla tutela del consumatore individuale. Questa è una bella riflessione ed è un punto estremamente elevato e perché si passa la tutela del consumatore, perché si può passare la tutela del consumatore, perché in un modo ideale ovviamente per alcune situazioni, sicuramente per il professor Passan si può immaginare che in fornitura di un servizio qualunque esso sia, dal trasporto di un servizio assicurativo, possa arrivare a individuare il profilo del singolo utente, singolo utente, singolo consumatore e quindi di profilare un servizio specifico sulla singola persona. Se questo avvenisse e si può affinare la serie teoria che questo avvenga, ovviamente questo può essere una sfida radicale a tutto tra la dottrina della tutela del consumatore e della produzione della concorrenza che ha come assunto il fatto che si devono creare mercati competitivi, mercati in concorrenza che si devono offrire la libertà di scelta al consumatore e poi una volta che il consumatore è informato, è consapevole, fa la giusta scelta e quindi realizza la firma non ciò, se è quella che garantisce la tutela del consumatore. Nell'ipotesi, pur invece che sia un'offerta individuale, ovviamente la struttura del mercato perde di lideranza e quindi c'è tutto il tema della tutela della comunità, della brava, c'è tutto il tema che gli economisti devono affrontare di nuovo, cercando a mare, tutta la dottrina dei mercati contenibili e tutta la dottrina dell'innovazione che crea concorrenza e della concorrenza che si crea per essere generale per i cittadini. Allora, io questa provocazione la prendo, mi sembra che il Consiglio del Settario che ha le mani anche nella realtà faccio bene a farci questa provocazione, lo ringrazio, però vorrei fare presente un paio di cose e l'evento alla domanda che faceva per gli altri, oggi noi siamo davanti ad una rivoluzione epocale per quanto riguarda il mondo dei trasporti e la rivoluzione epocale è data da questi strumenti qua, cioè dai tablet, da questi dattatori digitali che ci mettiamo dietro che consigliano l'integrazione di informazioni, servizi, transazioni, pagamenti, eccetera, eccetera. Quindi assistiamo ad un rafforzamento, di un empower, come si dice in inglese, ad un veramente rafforzamento del potere del passigeno, utilizzatore, utente, consumatore. Il quale chiede che cosa? Il quale chiede non più di essere trasportato, ma chiede dei servizi di mobilità. Quindi il vecchio mercato dei trasporti, il vecchio sistema dei trasporti che era basato sull'offerta, sull'investimenti, sulle infrastrutture, sull'offerire un trasporto, un punto alto, o di magari un po' di solito, di un sito immaginabile, lasciando poi al cittadino, all'utente, alla scelta di quale mezzo utilizzare. Oggi questo modo di produrre non è più. mi chiesto. Oggi si chiede e si deve offrire un servizio di mobilità integrale. Allora vuol dire che un'industria dei trasporti che era fatta a ferro, a gomma, a mare, acqua, a cielo, eccetera, eccetera, diventa, sotto questa spinta della digitalizzazione di una domanda molto più forte, diventa un'industria di servizi integrati di mobilità. I servizi integrati di mobilità quali sono? Sono quelli che provano a offrirsi, non so, applicazioni come Mobit, che tutti noi ben sottilizziamo, altri servizi come Waze, che ti dicono quando è occupato, c'è in bordo e non in bordo. Questi sono servizi di mobilità integrati che accompagnano l'end-to-end e noi, quando usciamo di casa, sa se comprende l'auto, la bicicletta, eccetera, eccetera, a prescindere che il mercato dei servizi di percorso in bicicletta sia monopolistico, chiuso, aperto, costitutto, costitutto, costitutto. Allora, vengo al punto del regolatore. Il regolatore, noi, che abbiamo avuto la fortuna di nascere integrati, nel settore unico, ma le industrie sono molti che operano nel mercato dei trasporti. Una volta tanto il legislatore ha avuto una visione giusta, forse aveva intuito che il mercato dei trasporti sarebbe diventato dei servizi di mobilità, allora il regolatore cosa fa? Abbiamo due strumenti fondamentali, che poi dopo mi fermo rispetto ad altri, eventualmente domani. Il primo strumento è quello di garantire che l'accesso alle infrastrutture fisiche sia aperto e garantito a tutti quelli che vogliono fornire servizi di trasporto. Ma non basta. Per cui, nelle nostre ultime azioni, abbiamo previsto che non solo l'accesso alle infrastrutture fisiche, ma anche l'accesso ai dati primari. L'accesso ai dati primari prodotti alle infrastrutture fisiche che devono essere aperti nel concetto di accesso, c'è anche l'accesso ai dati. Specialmente là dove le infrastrutture e la fornitura di servizio di trasporto tradizionale è sottoposto a ordini di servizio pubblico e dove viene un contributo pubblico, che è il 90% dell'infrastruttura di trasporto. Quindi vi è una servitù di quell'infrastruttura, non solo perché non è replicabile economicamente, quindi deve garantire tutta l'eserbilità aperta, non discriminatoria, ma anche i dati prodotti, i dati primari, non quelli che sono oggetto di tutela, tra i casi, la profilatura del cliente, ma i dati gestionati, quindi traffico, dati orari, e devono essere disponibili online e devono essere disponibili in modo tale che si possano fare i servizi. Perché un dato, ad esempio, se il treno è in ritardo o in arrivo, quanto dura quel dato? Dura 5 minuti o 20 minuti o mezz'ora, quindi ha una valenza temporale molto limitata. Però se io ti do quel dato ma non ti do il modo di utilizzarlo, che non c'è da noi. Quindi ti devo dare il sistema, l'insieme di quelle informazioni che ti consentono di trasformarli in un servizio di mobilità. Per esempio, uno ha comprato un biglietto e gli arriva un pop-up che dice il tuo treno è in ritardo. A prescindere che quel pop-up sia fatto dall'operatore principale, da un concorrente, o da un third party service trovare, per esempio, tra i line, che è una parte terza, una piattaforma terza. Questa è la prima cosa più importante. E questo è il contenuto nella nostra, il potere che abbiamo, è contenuto nella nostra visione. La seconda cosa che abbiamo fatto, che facciamo, è contenuta anche questa tra le leggi istitutiche, e che pochissimi hanno capito fino ad oggi, è quella della definizione del contenuto minimo dei diritti. Allora, se, non riprendo la frase che diceva che sono assai, se alla fine sarà il singolo ad essere curato, ad essere oggetto del servizio, bene, in che modo si interviene nel militare? Alzando il contenuto minimo dei suoi diritti. vale a dire, se c'è il diritto all'informazione, qualcuno dovrà stabilire, tocca a noi, qual è il contenuto minimo di quell'informazione, cosa deve almeno contenere. E allora, se si mette un pubblico di informazione minima, e non si mette perché il regolatore ha questo potere, vuol dire che si mette un vincolo nella fornitura di quel contenuto minimo per chiunque sia il fornitore del servizio di mobilità, non solo per l'impresa ferroviaria o per ATAC o per APM, ma per chiunque altro. E quindi si crea un livello minimo di tutele e di interazione. Questo lavoro l'abbiamo fatto per la prima volta sugli abbonamenti alta velocità. Abbiamo, se vi ricordate, il caso è stato di grandissimo interesse, treni per alta velocità riducono il tempo di percorrenza per cui nasce un abbonato, un pendolare alta velocità che vuole un abbonamento. Ci vuole dire cosa vuole? Vuole uno sconto. Ma vuole uno sconto e vuole però continuare, volevano continuare ad utilizzare l'abbonamento a alta velocità con il servizio al mercato con gli stessi diritti dell'abbonamento pendolare, quindi salire il volo senza prenotazione, poter cambiare tutto quello che uno vuole, il testo bene, il testo flette, lo consumo finché vuole. Tutto questo ovviamente non era possibile perché le imprese ferroviari a alta velocità in una struttura di costi diversi. Noi siamo intervenuti e abbiamo stabilito il contenuto minimo dell'abbonato a alta velocità nel caso in cui l'abbonamento si offre. Quindi se tu, l'impresa ferroviare, offre l'abbonamento lo devi fare tenendo conti il diritto all'informazione, il diritto all'esercimento, il diritto al cambio di prenotazioni, hanno questi contenuti. Abbiamo avuto, come sapete, una bellissima sorpresa perché siamo stati sfidati in giustizia a alta sia dall'impresa ferroviare sia dall'associazione dei consumatori che avevano capito tutto il cliente. E cosa dicevano l'una diceva che non posso mettere nessun diritto, immaginate chi sono, e gli altri dicevano beh no, tu devi mettere l'obbligo a fargli ancora mette e immaginate chi sono. In Vittal c'è tanto ragione, perfettamente ragione. Questa è una strada di lavoro. Adesso abbiamo un procedimento che prenderemo pubblico prima di Natale o subito dopo Natale, dove stabiliremo i contenuti minimi dei diritti di tutti i servizi con obbligo di servizio conti. Quindi il pendolare nazionale, quindi chi prende l'aereo dei servizi di comunicabilità, le isole, quindi chi prende il traghetto per andare di Sardegna, tutto quello che è l'OSPA, bene, i diritti all'informazione, all'esercizimento, all'ingosso, alle prenotazioni, al posto, in di compreso ad esempio il diritto a sedersi quando uno è stazione. Sì, che oggi non si può più sedere, c'è più un posto. Capisco che la stazione è interessante, bisogna meglio avere un bar più un narrativo che avere una sala d'attesa, ma le sali d'attesa non le trovate più. Allora è giusto avere una sala d'attesa? Adesso cambiamo la sala d'attesa. Nel aeroporto avete visto il senso che sono moltissimi e questo secondo me invece di essere un servizio pubblico ci deve essere una sala d'attesa con un minimo. Questo vuol dire quindi lavorare sui due versanti, lavorare sull'atto dell'offerta o di lato dei diritti dell'uso e questo diventa un sistema bilanciato per cui si lavora sia sulla struttura dei mercati per garantire livelli di concorrenza quindi una freedom of choice una libertà di scelta e innovazione sia sul versante della domanda perché il consumatore pensi cittadino passigeno e tutti insieme alla fine tra l'altro il taxpayer contribuisce a compiere i costi non poche di scelta e come tale deve avere un minimo di diritti ogni diritto deve avere un minimo non un minimo di diritti ogni diritto sancito per legge deve avere un contenuto minimo questo diventa un sistema europeo non solo europeo ed è assolutamente compatibile con tutti i ragionamenti che ha fatto il Presidente solo sulla tutela dell'intesa dei dati e poi sui dati magari se sono domande rispondono fino a questo poi alla fine dobbiamo discutere e in qualche misura si dimostra che ha ragione Manu cioè adesso si può prima non si sceglieva un tubo che ha già detto appunto il sistema librico in testa adesso adesso grazie adesso si sceglie in troppo e il tema dei dati della simmetria con la quale i consumatori ne dispongono rispetto agli operatori è uno dei temi di diritto in emergenza cioè sono tutte vere giuste sacrosanti le istanze che ci ha appena raccontato Camaranzi però alla lunga se i dati li hanno solo gli operatori e i consumatori non li hanno è una cosa compito così come se i dati li hanno solo multinazionali americani e cinesi e noi li abbiamo frammentati per silos di attività la idea di mobilità integrata della quale stiamo parlando diventa difficile allora uno dei temi e poi tra l'altro anche uno dei diretti umani previsti in quella dichiarazione dei diritti in internet che la Camera dei Deputati italiani in questa legislatura ha approvato l'unanimità uno dei diritti è l'interoperabilità delle piattaforme che costituiscono una sorta di utilità che sono obbligatoriamente utilizzate questa interoperabilità delle piattaforme non è declinata ovviamente stiamo parlando di diritti quindi è una cosa molto astratta e di ispirazione culturale non sono però declinati in termini di regole neanche di standard di comportamento da questo punto di vista il mondo della mobilità potrebbe essere un esempio sia in termini di creazione di forme di interoperabilità per quanto riguarda la società sia come alternativa nativa europea a fronte delle grandi piattaforme che è andata sì sicuramente sì stiamo lavorando su questo tema l'ho detto in varie occasioni nell'ultimo intervisto uscito qualche giorno fa e anche nella relazione annuale alla Camera dei Deputati noi stiamo lavorando su una regolazione delle piattaforme di servizio per la mobilità e parliamo di piattaforme plurali distinguendo e inteso la natura delle piattaforme e quindi un'intensità di regolazione dell'intervento è diversa secondo che la piattaforma è una piattaforma tecnologica che fornisce servizi terzi rispetto alle parti che rispetto alle parti che ne fanno che ne fanno la compongono oppure se è una piattaforma che alla fine della fiera produce valore per una delle parti classico esempio Trainline è un fornitore di servizi terzo Mobit è un fornitore di servizi terzo rispetto alle parti essendo le parti di represe di servizio pubblico e di passeggeri a posare una piattaforma che fornisce servizi di biglietteria ma è di proprietà di un'impresa ferroviaria non è la piattaforma terza perché comunque alla fine porta valore su quell'impresa ferroviaria è illegittima? no perché deve essere illegittima? pur che sia in concorrenza con altri o che la concorrenza con altre piattaforme sia possibile e quindi vuol dire che i dati che quell'impresa ferroviaria mette nella piattaforma che lui gestisce deve essere un-bundle cioè quei dati devono essere messi in una società o in una struttura separata o comunque accessibile a terza quindi vi è una separazione infrastruttura servizi dentro l'infrastruttura e dentro i servizi dati erogazioni di servizi cioè c'è un nuovo label è molto semplice si crea questo nuovo label ben inteso i dati nel rispetto di quello che dicevamo prima cioè io non è che penso che deve essere cioè il segreto commerciale vi faccio un esempio classico train line è un fornitore di biletteria integrata offre biletti su tutta Europa abbiamo abbiamo discusso con loro qualche giorno a fare legge all'unione dell'associazione europea degli autorità di regolazioni indipendenti dei trasporti train line ha accesso a tutti i dati inerenti l'orario di servizio dei treni degli auto di serie di scuola accesso a tutti i dati inerenti e il preso del biglietto va benissimo ma non ha accesso a che cosa agli sconti allora voi capite bene che se non ha accesso agli sconti nella sua offerta di integrazione non è conveniente allora se non ha accesso agli sconti quello è un dato che dovrà essere fornito è un segreto commerciale? non lo può essere perché lo sconto non può essere uno sconto singolo allora se è singolo mettiamo nel contenuto minimo lo specifico diritto di conoscere lo sconto come anche su quei tre mesi e abbiamo risolto il problema questa è la frontiera della regolazione della servizio di mobilità dei trasporti che capite bene non è un siglos e non è scanciato al mercato grazie grazie che amante un'altra importante il layer delle infrastrutture contiene i dati ed è condiviso il sistema dei servizi sono in concorrenza mi sembra super interessante grazie credo che questa sia anche la base per avere una contenibilità dei servizi che fino a ieri è stata difficilissima molto spesso legale per affidare questi servizi che sono anche normalmente e logicamente pluriannali consegnavano nelle mani del campo tutta l'informazione degli ultimi otto quanto riguarda si riuscirà in realtà più difficile per partecipare ad una gara in condizioni di qualità è un'impostazione importante su questo vi avveniremo il vostro sostegno non mancherà mai grazie comanzi grazie manamana adesso la seconda parte di questa discussione Magda Bianco Banca d'Italia buongiorno Daniela Mariani Ibas buongiorno Guido Stazzi della Fondo siamo quindi passati dall'economia reale e dall'economia finanziaria i dati sono al centro della Fondo in effetti è capitato di intervistare Bill Gates all'inizio degli anni 90 chiedendo che nella società dell'informazione non è contato di più il denaro o l'informazione e lui che di solito risponde immediatamente ci ha pensato un po' e questa la risposta è stata il denaro era una forma di informazione ho capito che lui aveva usato l'informazione di denaro allora marga bianco a fronte dell'entrata in gioco adesso non più soltanto di database registrazione di dati di informazioni ma di algoritmi che operano in autonomia o quasi nei mercati finanziari delle valute con una serie di innovazioni radicali disintermedianti come bitcoin e blockchain la domanda di fondo è stiamo per avere nuove regole sostanzialmente nuove per affrontare questa situazione intanto anch'io per ringraziare gli organizzatori perché è un'occasione interessantissima stimolantissima sentire i temi che vengono dagli altri ambiti è importantissimo e però anche il rapporto è veramente molto interessante anche per la parte del nostro settore è veramente ben costruita e fonte di stimoli domanda molto difficile un punto di partenza oggi è che sicuramente tutta l'innovazione nel mondo fintech è uno stimolo fondamentale alla concorrenza all'innovazione del sistema finanziario anche se gli effetti diciamo almeno in Italia che vediamo sono ancora da certi versi limitati sull'organizzazione sulla struttura però potranno essere sicuramente molto significativi per tutti i concorrenti per gli operatori naturalmente aumentando nell'efficienza nel mondo che il ruttore si raccolga la stira ovviamente per chi è di equa diciamo qualcosa di più e naturalmente anche per i regolatori l'uso della tecnologia tutto il mondo che oggi chiamiamo red tech o sub tech implica anche per i regolatori l'utilizzo della tecnologia per essere più efficienti ed efficaci nell'allorazione per i clienti diciamo per certi versi sono di questi benefici alcuni sono già molto concreti altri sono in via di realizzazione tra quelli concreti la finanza naturalmente tutto il mondo online sta cominciando a produrre benefici forti per i clienti un prodotto molto semplice come quello del conto corrente online pensiamo che ha costi enormemente diversi dai conti correnti standard qualche giorno fa abbiamo pubblicato la nostra indagine sui costi dei conti correnti il costo di un conto corrente tradizionale il conto corrente standard annuale in media naturalmente di circa 77 euro dell'aumento rispetto all'anno precedente il conto corrente online ha un costo annuale di 14-7 euro per una serie di ragioni non ci sono i cambi di passi quindi questi sono benefici già realizzati oppure pensiamo all'interazione recente dei bonifici istantanei che sia pure per un costo però consente di accedere a un beneficio che tempo fa richiedevano il tempo ovviamente questi benefici si accompagnano a dei vincoli pensiamo appunto alla possibilità di avere benefici immediati si porta dietro se vogliamo un aspetto che è percepito in generale come non tutela che è quello di utilizzare l'invang in modo corretto questa è una cosa che ci viene chiesta spesso dai clienti ma come è possibile io devo ricordarmi devo mettere correttamente questo numero di 27 cifre è difficilissimo è un facilissimo l'errore e se sbaglio non vengo tutelato nonostante magari il nome sia corretto questo è il trade off che ci portiamo dietro se io voglio il beneficio dell'istantaneità della rapidità dell'immediatezza devo accettare un costo che è un costo di consapevolezza se vediamo torneremo sulla consapevolezza diciamo l'altro beneficio ci avviciniamo alla domanda può venire da una crescita da un allargamento degli scambi legato appunto a questo mondo di informazione ricchissima premiante che mette insieme tanto che è simile a quello realizzato da facili in economia simili mettere a disposizione una grande quantità di informazioni che in qualche modo viene tutelata o garantita attraverso meccanismi gravitazionali quello appunto della sharing economy consente un allargamento degli scambi cioè consente di far parte del mercato di pezzetti di mercato di scambio che non potevano esserci questo per esempio per la possibilità di creditori in prospettiva quindi la possibilità di offrire credito anche da parte di questi grandi soggetti che sono in grado di utilizzare altre informazioni al di là di quelle delle banche dati classiche riguardanti il credito potrebbe in principio allargare il mercato quindi concedere assicurare l'entrata sul mercato a soggetti che non sono già profilati attraverso le banche dati classiche creditizie ma appunto attraverso storie diverse informazioni diverse possono accedere al credito e quindi se vogliamo potrebbe addirittura essere un meccanismo di inclusione finanziaria interiore ovviamente c'è un correscio della medaglia ci possono essere dei rischi per tutto questo di non essere informati correttamente addirittura di non essere in grado di assicurare una ricostruibilità del dato che viene utilizzato per fare questi esercizi quando passiamo addirittura l'evoluzione dell'intelligenza artificiale che costruisce profili teorici ovviamente l'uso scorretto dei dati per fini che non sono esplicitati oppure decisioni basate su informazioni che non sono accurate o che rischiano di essere addirittura discriminatorie quando appunto non si profila al singolo cliente ma si usano aggregazioni per riprodurre una tipologia di cliente appunto che può essere discriminatoria oppure l'essere bloccato con un fornitore che in quanto dispone di più dati appunto è in grado di fornire un servizio che io non posso chiedere a un altro perché non ha la stessa rischia di più cargati e naturalmente tutto il tema della sicurezza allora l'uso degli algoritmi e i rischi che si pongono e il minore spazio per i regolatori gli algoritmi di per sé in questo senso rendono per certi versi più efficienti che è il mercato se devono utilizzati se i rischi sono presidiati rendono più efficiente se vogliamo la profilatura del territorio e quindi possono allargliare gli scambi il problema è sono i rischi che è leccato non tanto ben discriminare i soggetti la buona discriminazione dei soggetti appunto consente di tarare meglio l'offerta sui soggetti veritori quindi in linea di principio di offrire a chi medita di evitare i rischi di sovraindebitamento per i clienti diciamo che non valutano correttamente se stessi e quindi sotto questo profilo il beneficio è grande è un beneficio di efficienza e appunto se vogliamo di inclusione il rischio viene da tutti gli altri fattori che è in cavo e qua il regolatore ha naturalmente degli spazi degli spazi che riguardano l'utilizzo della tecnologia e questi sono tutti i poteri che il regolatore ha già oggi tutta la vigilanza se vogliamo di stabilità si preoccupa di verificare che lo strumentario a richiedere gli intermediari sia adeguato sia corretto sia il rischio di fallimento di inefficacia del funzionamento sia ben valutato e presidiato le guidelines recenti dell'EVA puntano attenzione proprio sui rischi della tecnologia e dell'eventuale outsourcing della tecnologia continuano a esserci e continueranno a esserci anche le tutele individuali le tutele individuali che funzionano oggi nel sistema finanziario dal reclamo verso l'intermediario all'interazione con il regolatore all'arbitro bancario finanziario sotto questi profili non arrecchiano in realtà sono strumenti che possono essere utilizzati per le singole interazioni realizzate anche con strumenti diversi a oggi i ricorsi verso l'arbitro per esempio nei confronti dell'istituto di pagamento che sono i soggetti che formalmente portano questi ruoli utilizzano le piattaforme sono ancora molto pochi però sono coperti dall'arbitro finanziario lo strumento di tutela individuale esiste e può essere utilizzato o continuerà ad essere utilizzato si amplificano le asimmetrie tra i soggetti in linea di principio questo è possibile in teoria se ben utilizzata la normativa soprattutto quella prospettica soprattutto il regolamento che dovrà garantire l'utilizzo dei dati questa asimmetria potrebbe essere in qualche modo bilanciata dalla possibilità per il cliente di scegliere che cosa fare dei dati in possesso di un certo intermediario di un certo fornitore naturalmente questo implica di nuovo un salto di qualità da parte del cliente ci scontriamo con un'esigenza di consapevolezza del cliente molto forte tutto il mondo della garanzia dei dati implica inferiori informazioni per il cliente noi sappiamo che tutti noi facciamo un'enorme fatica a utilizzare tanta informazione come costruire questo mondo in cui dobbiamo essere un po' più consapevoli dei rischi che affrontiamo e fare delle scelte è la mia sfida l'abbiamo sentita anche prima che tutti gli altri campi cioè stiamo ipotizzando le chiedi più consapevoli ovviamente mantenendo delle aree per i clienti che preferiscono scegliere che preferiscono un modo significato però ci sono alcuni aspetti che riguardano la parola sia l'utilizzo dei dati in cui questa scelta è quasi impossibile cioè c'è bisogno di fare il salto di consapevolezza e di decidere che cosa fare rispetto all'inizio delle proprie informazioni quindi appunto si apre un mondo di costruzione di questa consapevolezza noi nel sistema finanziario stiamo investendo moltissimo sul tema dell'educazione finanziaria probabilmente è importante ampliare questo concetto di educazione finanziaria a una consapevolezza che riguardi tanti canali le sfide ovviamente sono tantissime anche per i regolatori oggi noi stiamo cercando di affrontarle interagendo con le nostre contraparti nel resto d'Europa e nel mondo i forum internazionali che si occupano di questo tema sono tantissimi e credo che vada perissimo anche se ci sono sovrapposizioni perché appunto le stile sono tante i modi di ragionare sui temi sono diversi la tua di stabilità quella di tutela è più importante sicuramente la sfida interna è quella del dialogo tra le istituzioni dialogo che c'è già noi come l'autorità per l'energia con l'antitrust lavoriamo moltissimo anche noi rispetto ai loro provvedimenti vogliamo careri e quindi ci interroghiamo su quello che fanno credo che forse la sfida è costruire dei tavoli al di là della relazione istituzionale dei tavoli di riflessione congiunta ulteriori per evitare dei spazi vuoti in tutela grazie la gestione delle informazioni per la consapevolezza dei cittadini dei consumatori a me apre una finestra non dico sul futuro dei giornali ma sulla funzione dei giornali del futuro che non hanno probabilmente molto a che fare con i giornali passati ma che hanno una funzione chiara da questo punto di vista che potranno svolgere solo trasformandosi radicalmente in qualcos'altro, ovviamente la questione lì è un buco di comodità per i cittadini a gestire un'enormità di dati, comodità però con valore per il procuratore e non per l'operatore. Sono delle novità nel mondo dei pagamenti, nel senso che alcune piattaforme di vendita come Alipafa e di pagamento come PayPal hanno cominciato intanto a diventare diciamo dei prestatori di servizio di pagamento senza essere autorizzati ma arrivano anche a fare l'enormità ossia stiamo anche a inserire il riso, diciamo per il consumo, capisco che Amazon non è ancora conosciuto, no, le evoluzioni diciamo da qui a 6 ore sono permanenti, allora mi domando se possiamo ancora pensare che il sistema di realità e la loro organizzazione internazionale la vediamo anche a inserire sicuramente sul fenomeno, sul fatto proprio che sono dei soggetti che fanno il sestiere, il proprio salimento, che fanno anche un altro e che quest'altro lo fanno anche se il sistema di realità è regolato e lo fanno prima di chiedere queste organizzazioni e di adottare le regole dei loro concorrenti che invece sono il prossimo di realizzazione e tutto possiede loro con un affetto anche duplice rispetto a noi, nel senso che le imprese le imprese sono scavalcate, i consumatori sono meno liberali. Per adesso appunto questi soggetti svolgono dei ruoli che sono diciamo istituzionalmente identificabili quelli degli istituti di pagamento, quindi che hanno queste caratteristiche e dentro questo mondo possono svolgere il ruolo di offerta di strumenti di pagamento che è quello che fanno continuamente e possono svolgere questo tipo di pagamento anche alcune altre attività, naturalmente non possono svolgere l'attività bancaria, non possono raccontare, però possono svolgere per esempio gli aspetti dell'offerta di reddito dentro quel punto dei istituti di pagamento. Con il regolatore in questo momento cercare di seguire i fenomeni e vedere se la regolarizzazione come adesso è sufficiente per il bilanciamento e cercare di regolare lo necessario, assicurare i qualità di portamento, assicurare che chi svolge la stessa unità sia soggetto alla stessa etnologia di regole. E fino a questo punto sostanzialmente ci siamo, nel senso che quello che dicevo prima vale, cioè qua questo è un mondo in cui se c'è credito, quello che si utilizza per fare credito appunto è un sistema di profilatura che semmai al momento aggiunge efficienza al processo di profilatura. Il problema è se ci sono degli errori, delle discriminazioni, dei malfunzionamenti sul sistema e questo ovviamente va sentito con attenzione e va modificato appunto chi è proprio per i primi termini. Grazie. Le assicurazioni erano sempre il...